E' stata una riunione molto importante, si è fatto un cronoprogramma per l'inizio della partenza delle gare per il porto del grande progetto, un lavoro intenso di piena collaborazione tra le istituzioni e anche novità a breve ci saranno sui vertici dell'autorità portuale, quindi si sta lavorando anche in questo caso molto bene con il governo. Ci sono già dei nomi? Beh è chiaro, si deve lavorare sui nomi, si spera di trovare un nome condiviso, bisogna fare questo lavoro nelle prossime ore.